Ti prendi cura del tuo bambino in ogni momento, ma a volte hai bisogno di un supporto. Il mio è il tiralatte Loviprolactis 3D Soft, indispensabile durante l'allattamento. È molto rapido, infatti permette di estrarre fino a 100 ml di latte in 10 minuti. L'imbuto in morbido silicone è incredibilmente delicato e si adatta perfettamente al seno, avvolgendolo e stimolando il capezzolo proprio come farebbe un bambino. La produzione di prolattina quindi aumenta, così come la secrezione di latte che genera un flusso naturale e costante. Il tiralatte inoltre ha due fasi di estrazione e la potenza è adattabile alle proprie esigenze. Il tiralatte Loviprolactis 3D Soft, un dolce sostegno quotidiano per il tuo comfort. Il tiralatte Il tiralatte Grazie.